È un pezzo di storia dell'industria italiana, ma da oggi la Magneti Marelli è di proprietà giapponese, venduta da Fiat Chrysler alla Calsonic Cansei dopo mesi di trattative avviate da Sergio Marchionne per 6 miliardi e 200 milioni di euro. Nasce così il settimo gruppo più grande al mondo di componentistica per autoveicoli, con un fatturato superiore ai 15 miliardi di euro. Fondata nel 1891 a Milano da Ercole Marelli, l'azienda diventa Magneti Marelli nel 1919 con l'ingresso nel capitale sociale della Fiat. Dagli anni 30 ampia produzione e ricerca e come Radio Marelli inizia a costruire anche apparecchi radio, mentre nei suoi laboratori, dove lavora anche il premio Nobel Enrico Fermi, sperimenta le prime trasmissioni televisive. È della Magneti Marelli la costruzione negli anni 50 dell'intera rete radiotelevisiva nazionale e nel 1958, secondo la DOXA, un italiano su quattro ha in casa un elettrodomestico dell'azienda milanese, che oggi, dalla sua sede centrale di Corbetta alle porte di Milano, coordina l'attività di 85 unità produttive e 15 centri di ricerca in 20 paesi del mondo. Non solo candele e batterie, accensione e centraline di controllo, ma anche motori ibridi ed elettrici e sistemi di guida autonoma. La Magneti Marelli è un'azienda leader nella ricerca sull'auto del futuro. La borsa ha reagito positivamente alla vendita, ma per i sindacati, che chiedono il mantenimento dei 10.000 dipendenti che l'azienda ha nei suoi 20 stabilimenti italiani, è un altro segno della crisi del nostro capitalismo.